Ciao, sono André Maderna, questo è un altro degli unboxing a caso di Outcast.it, come al solito legato all'uscita di un nuovo episodio di Retro Outcast. Il podcast viene pubblicato contemporaneamente a questo video, quindi andatevelo a recuperare se vi interessa, ed è dedicato ai 20 anni di Eternal Darkness, che quindi va da mostrare. Ovviamente non c'è molto da mostrare perché siamo in piena era giochi su confezione stile DVD, già iniziata 20 anni fa, quindi è un po' tutto qui, però ormai ci ho preso gusto a fare questi video in allegato a Retro Outcast quando posso, quando ho qualcosa da mostrare. Non ho edizioni limitate con dentro statuetto, chissà cosa. Vedete qua, Eternal Darkness, Sunny Requiem, solo per Gamecube, edizione PAL, col bollino Nintendo, questo è il primo gioco pubblicato da Nintendo con rating per adulti, insomma. Infatti c'è il PG15 da noi, non 18, attenzione, credo che in America fosse stato classificato come AR, invece, sviluppato da Silicon Knights, dietro una breve spiegazione scritta in corsivo perché fa molto arcano, con gli screenshot e tutto, memory card, ci vuole una memory card, usa 15 blocchi, un giocatore, un thriller psicologico in cui nulla è come sembra, in questo caso è una dicitura più azzeccata che mai perché c'è tutto il discorso delle illusioni. Lo apriamo, la classica confezione del Gamecube, col suo mini dischetto, con lo slot per la memory card, e abbiamo il manuale che vado a estrarre, ma vai, Eternal Darkness, insomma, cosa volete che ci si aspetti? C'è l'introduzione, l'oscurità sta arrivando, un po' come l'inverno, c'è una spiegazione di un po' tutti i personaggi, e sono tanti quelli di Eternal Darkness, per chi non lo sapesse è un gioco che ti porta a gironzolare per varie epoche, e ogni epoca ha un suo personaggio diverso che interpreti nelle diverse ambientazioni, in diverse ambientazioni si fa per dire perché si tende a tornare sempre agli stessi posti. Manuale è abbastanza importante perché comunque c'è tutta una spiegazione di come funziona il sistema di magie, che è abbastanza complesso in Eternal Darkness, devo dire, giocarci senza manuale o senza quanto meno una guida che ti spiega come si fanno le magie può essere complicato. Poi qui abbiamo il bollettino per, insomma, per usare il codice per ottenere punti sull'account Nintendo dell'epoca, lo usai, con grande affetto, il classico librettino di istruzioni base su come usare i giochi, e poi questa cosa mi affascina sempre, devo dire, anche quando guardo confezioni in cui non c'è poi molto da vedere, mi affascina sempre guardare questi, cioè i volantini con le pubblicità degli altri giochi in uscita in quel periodo, perché ti danno un po' uno specchio, no, di quel momento, in particolare in quel momento su Gamecube, ovviamente, giochi Nintendo, qui nel volantino abbiamo, insieme a Eternal Darkness, c'è Star Fox Adventure, Super Mario Sunshine, Mario Party 4, che era il primo Mario Party su Gamecube, Metroid Prime, Magical Mirror Star e Mickey Mouse, beh, tolto Mickey Mouse magari non male come facciata, e sull'altro lato comunque TimeSplitters 2, che secondo me rimane un giocone, anche se magari non è troppo simbolico del Gamecube, Turok Evolution, il remake di Resident Evil, l'altro gioco abbastanza significativo, poi cosa abbiamo? Need for Speed Hot Pursuit 2, Mortal Kombat, Deadly Alliance, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Super Monkey Ball 2, Tony Hawk Pro Skater, e vabbè, è la pubblicità della connettività fra Gamecube e Gameboy Advance, e anche del controller wireless, il Wave Bird, e della Memory Card. Tutto qua, non c'è altro da mostrare, ma era un bel momento per Gamecube, devo dire, c'erano un bel po' di bei giochi, ne sarebbero arrivati anche parecchi altri. Grazie per l'attenzione a questo video, è abbastanza inutile, ma che ci dobbiamo fare? Potrebbero arrivare degli unboxing più interessanti con i prossimi Retrocast, credo, non col prossimo, ma insomma, ci sono delle cose in arrivo. Per oggi è tutto, grazie per la visione, attenzione e ascolto, alla prossima! Grazie per la visione, attenzione e ascolto, alla prossima!